Ho trovato per Ares questo nuovo gioco di logica e di pazienza, che consiste nel pescare dal mazzo una carta e replicare l'immagine raffigurata, come sto facendo ora. Ci sono diversi gradi di difficoltà e si può vedere questo dal numero delle stelline presenti su ogni carta. Questo è facile, questo è moderato e questo è difficile. Vediamo, bravo. Bene, perfetto. Grazie.